Ciao, mi chiamo Maurizio, ciao, sono Loira, ciao, sono Marco, ciao, sono Alessandro Ligetti, vengo da Urescia, ciao, sono Luca, io sono Pacaniella Giorgio, Padova, questa è mia moglie, il signore Bertelli Elvira, siamo stati qui una settimana, ci siamo trovati molto bene, ragazzi dell'animazione spenditi, struttura importante, gestita al meglio. Il viaggio è stato molto bello, posso fare solo complimenti a questa struttura, ben organizzata, in buona qualità, la consiglio quantomeno ai bambini, anche per chi ha dei bambini, genitori, tutti. Questa settimana è andata benissimo, l'animazione è fantastica, questo posto è incantevole. Bravi anche i fotografi del villaggio, il resto che vuole dire, è passato benissimo, ritorneremo. E' consiglio a tutti di tornare in questo posto, perché è stato veramente piacente e sotto tutto il video. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Un saluto. Ciao e arrivederci. Un saluto, ciao a tutti e un arrivederci. Ciao a tutti.